Spianare la strada verso il futuro nel cammino di riconciliazione tra la Chiesa d'Occidente e la Chiesa d'Oriente significa compiere ulteriori passi comuni nella questione cruciale del primato del Vescovo di Roma. A parlare è il Cardinale Koch, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani. Ieri pomeriggio a Castel Gandolfo è infatti intervenuto al convegno dei Vescovi amici del Movimento dei Focolari. Secondo il Cardinale la questione non è arrivare ad un compromesso, o piuttosto si vogliono fare interloquire i punti di forza di entrambe le Chiese confidando nel fatto che esse siano disposte ad imparare l'una dall'altra e dando prova del principio fondamentale del dialogo ecumenico che consiste nel mutuo scambio di doni. In questo senso entrambe le parti del dialogo ecumenico devono fare passi l'una verso l'altra. La riuscita di una sintesi credibile tra primato e sinodalità ha proseguito il Cardinale dipenderà soprattutto da quanto il primato del Vescovo di Roma dimostrerà di essere un primato dell'obbedienza al Vangelo. Soltanto se il Vescovo di Roma, ha detto il Cardinale, si presenta come modello esemplare di obbedienza e dunque non si autoconcepisce come regnante assoluto, vi è la speranza e la possibilità che il primato del Vescovo di Roma si ponga al servizio del ristabilimento della Chiesa, una e in divisa, in Oriente e in Occidente. Ci auguriamo di cuore, ha poi concluso il capo del di Castelo Vaticano, che l'incontro che avrà luogo il prossimo maggio a Gerusalemme tra il patriarca ecumenico Bartolomeo e Papa Francesco nel ricordo del primo incontro tenutosi 50 anni fa tra i rappresentanti delle due Chiese possa offrire una rinnovata speranza nel dono della comunione ecclesiale. Tutti noi siamo chiamati ad apportare il nostro contributo affinché il cammino della riconciliazione tra la Chiesa d'Oriente e la Chiesa d'Occidente iniziato 50 anni fa possa raggiungere il suo obiettivo.